Buongiorno e buon sabato a tutti, oggi è il 12 di settembre 2020, questa è Fano TV su canale 17, c'è la rassegna stampa, tra poco vedremo i giornali, adesso invece subito il calendario di oggi, oggi la chiesa cattolica ricorda il santissimo nome della Beata Vergine Maria, il sole è sorto alle 6.46, tramonterà alle 19.27, adesso andiamo a vedere il tempo. Bollettino della protezione civile delle Marche per oggi, cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento nel settore montano durante le ore più calde della giornata, temperature senza variazioni di rilievo, per domenica ancora cielo sereno ovunque su tutta la regione Marche, con temperature ancora senza variazioni di rilievo anche per la giornata di lunedì 14 di settembre, insomma, probabili condizioni di tempo stabile anche per tutta la prossima settimana. E allora, quando parliamo di tempo, quando parliamo di sole, quando parliamo di weekend, la mente ancora viaggia verso il mare e verso il mare noi abbiamo, come tutte le mattine e oggi per l'ultima volta, Tommy, il nostro bagnino. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Allora, come ultima immagine di questa stagione 2020 ci regali che cosa? Un bellissimo, un bellissimo, bellissimo alba. Un bell'alba sul mare. Eh, che bella, che bella, davvero. Che tristezza Marco stamattina. No, ma perché? Non dobbiamo essere tristi. Guarda che bello, guarda che sole, guarda che bella, che bella, che bella immagine che ci mostri questa mattina. Allora, c'è gente insieme a te, lì vicino? No, ancora non è arrivato nessuno stamattina stranamente. Neanche per festeggiare l'ultimo collegamento? No, purtroppo, purtroppo no. Eppure ho portato la bottiglia come mai detto. Bravo, allora adesso, visto che abbiamo i secondi contati, mentre tu, ah e come fai a stapparla adesso? C'hai il braccio? Adesso ci penso io, ci penso io. Vediamo un po' come te la cavi. Comunque Marco, intanto che stappo vorrei ringraziare tantissimo Fano TV e voi per l'opportunità che mi avete dato e i fanesi per l'affetto che mi hanno dimostrato. Bene. Quest'estate. Adesso voglio vedere però come te la cavi tu con un braccio. È partito. Sentito? Evviva, evviva, evviva. Allora, brindiamo la tua salute, al tuo futuro e, bravo, bevi anche per noi e poi con calma perché stai lavorando. E poi, naturalmente, per tutti i nostri telespettatori, un cincine evviva, grazie e allora grazie anche a te per la compagnia che ci hai tenuto. Grazie a tutti voi. Regalaci questo... Grazie per l'opportunità. Regalaci ancora questo scorcio di inizio giornata che è davvero bello e che speriamo sia di buon auspicio per tutti voi e tutti noi. Grazie allora a Tommy e andiamo subito sul touchscreen per vedere i giornali di oggi. Allora, così ho steso il ladro, questa è la fotonotizia del resto del Carlino. Paolo, barista del Cincin, in viale 11 febbraio a Pesaro. Un barista, tra l'altro, coraggioso perché ha bloccato in pieno centro un balordo e, insomma, alla fine lo ha, tra virgolette, disarmato. Anche se poi non era armato, ma comunque lo ha reso innocuo. Mentre il titolo d'apertura è come abbiamo visto allora, anche ieri nel telegiornale, un ubriaco, un camionista che stava guidando il tir, anche se non aveva dietro la parte più grande, aveva solo la motrice. Sul tir semina il terrore, conducente contro mano in Viale Trieste, finisce sulla pista ciclabile sfiorando ciclisti e chioschi. Poi il viceministro Ascani, che inaugura la scuola ipertecnologica e dice lei, qui servono più insegnanti, l'edificio di Via La Marmara pronto, al suolo della campanella lunedì prossimo. Poi a prensione, sono ore difficili per la famiglia Selci, Giancarlo, il fondatore dell'ABS, è stato colpito da un ictus, non è grave, ma c'è, come dicevo, paura, prensione. Fratte Rosa, elezioni sì, però in convento l'elementare resta dunque aperta, andremo a vedere dove si voterà in alcune situazioni, è possibile votare fuori dalle scuole, dunque non bloccare l'attività scolastica. Poi, troppo cemento, premio amaro per tre politici, Ceriscioli, Minardi e Tagliolini bersagliati dagli ambientalisti per gli impianti del Catria. E poi, sul caso Cicerchia, si sentiva proprietario della sua donna, tentò di uccidere l'ex fidanzata Pasquetta del 2019, le motivazioni della sentenza per il 27enne Fanese. Adesso andiamo a vedere il Corriere Adriatico, edizione di Pesero, come l'ha brancati oltre altre, scusate, 40 mila. Sono parole della Vice Ministra Scani, che ha elogiato la nuova scuola di Via La Marmora e appunto ha detto, come queste scuole ce ne vorrebbero altre 40 mila. Dopo l'inaugurazione, i banchi e gli arredi verranno sistemati per la festa del patrono San Terenzio. A centropagine, il brodetto a Fano rilancia i ristoranti, il festival non si ferma, è una delle poche iniziative a Fano che hanno trovato conferma in quest'estate così particolare e difficile, caratterizzata da blocchi, restrizioni e tanti appunto niente di vieti. Sfida leghista per la sanità in Lizia Carloni e la Acciarri, mentre sotto BS a pressione per il patron Selci, ricoverato per Ictus, sempre a Pesero, tirra, sbaglia e finisce lungo la ciclabile. L'autista era ubriaco e mira il fiore, il parco recintato, basta con i bivacchi per colpa dei Varchi. L'ospedale Tornipubblico, priorità di Baldelli e Ruggeri, solamente la capolista del Movimento 5 Stelle e il candidato di Fratelli d'Italia rispondono all'appello del comitato di Sasso Corvaro. Lo stato di salute del presidente, patron dell'ABS, colpito da Ictus, paura per Giancarlo Selci, titola il resto del Carlino, il fondatore e presidente dell'ABS, ricoverato a Fano, si è ripreso. Scrive il giornale questa mattina, l'imprenditore era nella sua abitazione di Via dell'Angelo Custode, alla Baratov, poco sotto la casa di Arnaldo Forlani, quando è stato colpito da malore poco dopo la cena, intorno alle 21.30, alle 22 dell'altra sera. Subito è scattato l'allarme e quindi la corsa al pronto soccorso, dove Selci è stato stabilizzato e poi inviato verso le 2 in ambulanza nel reparto di medicina dell'ospedale Santa Croce di Fano, diretto da Gabriele Frausini. Tra l'altro, apriamo parentesi, insomma un'eccellenza del nostro ospedale. Una situazione che era partita come grave, che però nel pomeriggio di ieri ha preso una svolta positiva, anche se occorreranno ancora 72 ore per porre fine a questa storia. Dopodiché se il quadro clinico dovesse rimanere stabile per Giancarlo Selci partirà la riabilitazione per il recupero e la funzionalità del braccio sinistro. Braccio sinistro che come ha ricordato e riporta il giornale questa mattina, il figlio Roberto dice l'ho chiamato questa mattina, parlava bene anche se non sentiva più appunto il braccio sinistro. La sua azienda, il ritratto che ne fa il giornale questa mattina di questa azienda fondata appunto da Selci, è partito, Selci che ha 84 anni, lo ricordiamo, partito come operaio della Benelli nello stabilimento di Viale Mameli, ha poi iniziato la sua attività in proprio, dando vita nel 1969 all'ABS, società che costruisce macchine per la lavorazione del legno e che oggi è guidata dal figlio Roberto. Ovviamente gli auguri. Terrore in Viale, tir impazzito contro mano. Guardate queste fotografie che pubblica sempre il resto del Calino questa mattina. Alla guida c'era un conducente ubriaco, Roberto Damiani scrive sul Carlino, è sceso dal camion vomitando, ha seguito Docele il poliziotto per soffiare sul tubicino dell'etilometro, totalmente ubriaco, con un tasso alcolico 5 volte superiore il limite consentito, protagonista un camionista di 50 anni di Verona che l'altra notte alle 23 al volante di una motrice di un tir Mercedes da 510 cavalli, ancora da immatricolare, valore 100 mila euro, ha attraversato contro mano Viale Trieste in direzione Levante per poi salire sulla rampa della pista ciclabile davanti ai bagni Ressole e lanciarsi ad una velocità di almeno 50 km orari con direzione Fosso Signore, quindi Fano, come se fosse tutto normale. Chiaramente poi è stato fermato, fortunatamente qualcuno ha visto, qualche ciclista si è buttato tutto sulla sabbia da una parte per non essere investiti, appena Autista è sceso appunto due testimoni raccontano, ha vomitato e barcollava senza sapere dove andare. E quindi questa è la notizia che troverete sia sul Carlino che sul Correo Adriatico. Ancora dal Carlino, Balordo sorpreso a rubare una borsa, barista lo placca, scene da Far West, protagonista il gestore del bar Cincin di via 11 Febbraio di fronte alla pescheria. Sono volati pugni e schiaffi ma alla fine l'uomo ha mollato quello che aveva appena sottratto da una bicicletta. Paolo che vedete nella fotografia è il gestore di questo bar, che si trova in angolo via Piazzale Carducci davanti alla pescheria. Spalle larghe e occhi attenti, ieri mattina intorno a mezzogiorno ha bloccato un ladro che aveva appena preso una borsa da una bicicletta parcheggiata alla rastelliera della pescheria. C'è stata una reazione del malvivente e poi una collutazione che con Paolo, a base di pugni emanate, insomma fino alla fuga del ladro dopo aver abbandonato il bottino, che appunto, lo ricordiamo, era una borsa. Una vecchia conoscenza anche, l'avevo già visto altre volte, racconta il barista, aveva 35 anni, italiano, capelli rasta, vive rubando biciclette, che poi cerca di rivendere, però alla fine, insomma, ha visto che contro questo barista c'era poco da fare, quindi ha mollato la borsa ed è scappato via. E' morto Marco Crescentini, l'ultimo maestro era ritenuto il meccanico dell'impossibile, capace di dialogare con i motori. Aveva 85 anni, considerato un maestro dei motori per tanti appassionati delle due ruote. Chi lo ha conosciuto bene, apprezzandone anche l'altissima capacità, lo considerava un tecnico della meccanica fuori dal comune. Allievo del padre Giuseppe, che aveva un'importante torneria meccanica a Pesaro, ha fin da piccolo dimostrato di essere particolarmente portato per il lavoro meccanico e a soli 14 anni ha realizzato da solo un motore a scoppio a due tempi innovativo. I funerali per l'ultimo saluto a Marco Crescentini si terranno oggi alle 10.30 alla chiesa di San Carlo in Vianitti a Pesaro. Poi c'è la vicenda della casa abusiva, guerra lunga 34 anni a Fiorenzuola. I proprietari chiedono la concessione di lizia in sanatoria dal 1986, ma finora praticamente tutto risultato inutile. Andiamo sulla pagina 17 del resto del cardino. Covid, paziente infetta nella casa di riposo. La 76enne utente della struttura Famiglia Nova era stata sottoposta allo screening periodico. I gestori dicono però pensiamo sia un falso positivo. Quindi adesso bisognerà rifare di nuovo il tampone per vedere se il dato della positività viene confermato oppure no. Va detto tra l'altro che essendo le strutture, le RSA, le strutture per anziani, tutte situazioni deboli, a rischio in qualche modo, e quindi come in tutte le strutture residenziali, anche nella nostra, dice Franco De Felice, presidente della SCOP, che comunque è sereno e tranquillo, dice periodicamente noi effettuiamo lo screening nell'ultimo risultata positiva, è una 76enne ed è asintomatica. Naturalmente poi è scattato tutto l'allarme, tutte le procedure, cose che nemmeno ci si poteva immaginare soltanto qualche mesi fa all'inizio di questa pandemia, quando invece in realtà queste RSA e queste strutture con dentro appunto soggetti anziani, fragili, che poi hanno pagato come abbiamo visto un caro prezzo, insomma si poteva entrare, si poteva fare tutto tranquillamente. Forse sono state le uniche strutture a essere chiuse in ritardo, dovevano essere le prime invece sono state chiuse dopo. Positiva il Covid, andiamo sul Corriere Adriatico, le poche pagine che possiamo scaricare, perché purtroppo con il PDF non è più possibile scaricarlo sul Corriere Adriatico, quindi prendiamo quello che riusciamo a prendere. Allora dicevo, da Macerata c'è questa notizia, ma solo il titolo. Positiva il Covid va in auto a Bologna per fare il test di medicina, denunciata. La 19enne era accompagnata dalla madre, sono state fermate dalla polizia poco prima di andare a fare l'esame. Ora, questo per dirvi che ci sono ancora situazioni, come vedete, molto prese alla leggera. Da una parte chi invece continua in maniera attenta, precisa, a rispettare le regole, a rispettare le leggi, a mettersi le mascherine, eccetera, eccetera. Dall'altra invece chi con nonchalance prende, fa e disfa come se nulla fosse e come se tutti gli altri fossero imbecilli e invece lui l'intelligente di turno. È un po' così la situazione, quando ci si trova di fronte a chi ancora oggi fa finta e rientra un po' anche tra quelli che, ma sì, non è nulla di che. Allora, Fossombroni invece chiude il ristorante da Gigi. Chiarabilli del PD attacca la giunta Bonci e dice in centro un'attività su tre ha abbassato la saracinesca. Il sindaco non ha fatto nulla. Pochi mesi fa, ricorderete, aveva sbarrato la porta del celebre caffè del Corso. E la chiusura del ristorante da Gigi è un altro colpo al cuore dell'economia di questa città. Cioè, Fossombroni a parlare è Michele Chiarabilli, che nella giunta Pelagaggia aveva l'incarico di vice sindaco e che adesso è in minoranza. L'argomento è la scomparsa di queste attività commerciali del centro storico e in particolare dal Corso Garibaldi, che è il centro, il corso principale. Il trend era già poco esaltante prima dell'era Covid, dopodiché la pandemia a qualcuno ha dato il colpo di grazia. E da Gigi è chiuso pochi giorni fa e la sua dipartita fa seguito alla chiusura di un altro ristorante storico, il Caffè del Corso, sotto al municipio, chiusura che è avvenuta nel febbraio scorso. Fermignano invece riapre la rinnovata biblioteca con 14.000 volumi per grandi e piccini, eseguita una ristrutturazione da 250.000 euro con varie migliorie strutturali. La pagina di Fano invece, scuola, ritardi nei lavori, quattro classi iniziano da casa. Dunque, come vedete, secondo quello che scrive Anna Marchetti questa mattina sul giornale, a Fano ci saranno alcune scuole, alcune classi che ripartiranno da casa. 15 giorni di didattica a distanza per quattro classi delle scuole superiori, sono due del Polo 3 e due dell'Istituto Nolfi. Questa è la soluzione dell'ultimo minuto, a cui hanno dovuto ricorrere i dirigenti dei rispettivi istituti scolastici per i ritardi nei lavori di ristrutturazione di quattro nuove aule da parte della provincia. Superate le prime due settimane, assicura la dirigente del Polo 3 a Ugello, si tornerà alla normalità. Manca solo l'installazione dei parapetti. Il Fabbro dice, mi ha assicurato, che per la settimana successiva le elezioni saranno montate e dunque andranno in presenza a scuola anche tutti gli altri. Andiamo adesso invece sulla pagina 19 del Carlino per parlare delle motivazioni che sono state pubblicate, le motivazioni della sentenza, con cui è stato condannato a dieci anni per tentato omicidio il 27enne fanese Matteo Cicerchia. Tre mesi dopo la sentenza di primo grado sono state pubblicate le motivazioni della condanna, a dieci anni e quattro mesi, inflitta dal giudice Messina a Matteo Cicerchia, il 27enne fanese autore dell'aggressione di Pasquetta dello scorso anno in cui ha provocato lesioni personali all'ex compagna, alla figlioletta e anche ad uno sconosciuto che ha rischiato la propria vita cercando di salvare quella della mamma e della bambina. Le motivazioni le troverete qui sul giornale. Il 22 aprile il giovane tentò di investire con la macchina che vedete nella fotografia qui in alto, la sua ex, ma riuscì a salvarsi grazie ad un residente. Per quanto riguarda invece lo schianto a Calcinelli, il 15enne resta in coma, sono ancora ricoverati al Torrette di Ancona i due ragazzi, i protagonisti giovedì dell'incidente lungo la Flamina all'altezza dell'autoscuola di Calcinelli, mentre il 18enne Nicola Seieri ha videochiamato alcuni amici per rassicurarli, l'altro, il 15enne, è in coma farmacologico e rianimazione per le gravi fratture riportate nello schianto e nel successivo investimento. Il brodetto. Il brodetto sposa il bianchello, siamo sul Corriere, tipicità che attirano i turisti, l'evento è stato inaugurato dal sottosegretario Labbate, 600 milioni dal governo per i prodotti italiani. Dunque è partita questa promozione e questo festival, tra l'altro non potendosi esserci gli stand come siamo abituati a vedere ormai da tanti anni, la promozione della ristorazione è il perdono di questa edizione 2020 per tutto il mese di settembre. Quindi per assaggiare il brodetto bisognerà andare nei ristoranti convenzionati. Alcante, da ottobre, prima RSA convenzionata, l'annuncio di Minardi, previsti 18 posti letti, in etinere la Don Tonucci. Poi ancora andiamo sulla pagina del Carlino per parlare delle prossime elezioni regionali, ma soprattutto dal punto di vista logistico del dove si potrà andare a votare. Chiaramente ci sono delle situazioni in cui alle scuole sono state trovate delle alternative, per esempio a Fratterosa, il caso della primaria istituto per l'infanzia, le elezioni si terranno nel convento, così la scuola resterà praticamente aperta. Felice il sindaco, il nostro obiettivo era non interrompere le elezioni. L'ok è arrivato anche dalla Prefettura, poi chiaramente parliamo di paesi piccoli, appunto come Fratterosa, dove avvisare un tot di persone e dire che non si vota a scuola ma si vota nell'ex convento è tutto molto più semplice, molto più facile. Però ben venga perché, insomma, comunque la soluzione è stata trovata e dunque una soluzione positiva, così come è avvenuto a Monbaroccio, Monbaroccio che vince la sua battaglia, il voto non sarà in un convento ma sarà in una palestra, grazie ad una parete tirata su in un'amen, cioè in pochissimo tempo l'istituto resta aperto, soddisfatto il sindaco Petrucci, Emanuele che vedete nella fotografia, con 2.000 euro abbiamo fatto tutto. Qui vale lo stesso discorso di Fratterosa. Sulle pagine della Val Cesano, invece, troppi rischi per il Covid, come vedete salta la festa, la fiera nazionale del Tartufo. Quest'anno dunque non si terrà la 25esima edizione che si farà soltanto il prossimo anno, quindi nel 2021. Quest'anno c'è un programma alternativo che potrete trovare sul Corriere di questa mattina. Poi, da San Costanzo, domande in ritardo, alunni per ora a piedi, il sindaco comunica che si provvederà a potenziare il servizio. Questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa e quindi grazie per averci seguito. Questa sera alle 20.30 c'è, come di consueto, ogni sabato Sette per Occhio, Sette per Occhio è il nostro magazine, quindi il meglio delle notizie, le notizie più importanti della settimana, ma se c'è qualche notizia dell'ultima ora chiaramente ve la inseriremo all'inizio del nostro magazine. Quindi partiremo dal sabato fino ad arrivare al lunedì. La rassegna invece torna lunedì mattina alle 7 puntuale in diretta. Buon fine settimana a tutti e arrivederci. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.